Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Ruggero Marchetti. Fratelli e sorelle, amici e amiche, benvenuti a questo culto della terza domenica del mese di maggio, che è anche in genere in molte nostre chiese il culto dell'ascensione, il culto in cui ricordiamo Gesù che sale al cielo. E così porta la nostra umanità nella sfera di Dio, nella sua stessa intimità. Così in qualche modo noi uomini e donne veniamo divinizzati, per pura grazia, per amore di Dio nel suo Figlio. Di fronte a tutto questo vogliamo metterci con riconoscenza alla presenza del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto nei secoli. Amen. È scritto nella lettera ai Filippesi, Dio ha assolutamente innalzato Gesù e gli ha dato un nome che al di sopra di ogni altro nome affinché, nel nome di Gesù, si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Signore Dio, tu con la tua potenza hai levato Gesù alla gloria dei cieli. Fa che Egli dimori in mezzo a noi, secondo la tua promessa, affinché, mediante lo Spirito, tutti noi siamo fortificati nella fede e conosciamo la potenza d'amore del tuo Regno. Amen. O Signore Dio, il Signore Dio, il Signore è la mia salvezza. Alleluia, 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 Oggi è il culto dell'ascensione e non ascolteremo un racconto che ci parla proprio dell'ascensione del Signore al cielo, ma in qualche modo c'è un aggancio, perché questo testo ci racconta un fatto che è avvenuto subito dopo che Gesù è disceso dal monte su cui si è trasfigurato davanti ai Suoi discepoli. È tornato nel mondo in mezzo alle miserie di questa nostra esistenza. E in fondo l'ascensione suscita nei credenti l'attesa della nuova venuta di Cristo, quando verrà nella gloria e quando verrà proprio a farsi carico e a porre fine in maniera definitiva alla nostra povertà, alle nostre infedeltà, alla nostra fatica di vivere, trasformando la nostra vita in vera vita, in vita eterna. E allora ascoltiamo appunto quello che succede quando Gesù scende dal monte della trasfigurazione, assieme ai tre discepoli che aveva portato con lui. Siamo ancora sempre nel Vangelo di Marco, stavolta al capitolo 9, versetti da 14 a 29. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò, di che cosa discutete con loro? Uno della folla gli rispose, maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro, oh generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo condussero. E come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre, da quanto tempo gli avviene questo? Egli disse, dalla sua infanzia. Le spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire, ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù disse, se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò, io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla accorreva, gridò lo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo, forte uscì e il bambino rimase come morto e quasi tutti dicevano, è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato, perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Egli disse loro, questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. Benedica il Signore, la lettura e l'ascolto che abbiamo fatto della sua parola. Amen. Allora ecco, dopo la sua trassicurazione, come accennavo prima, Gesù scende dal monte della Galilea, perché non può fermarsi lì. Ha una missione da portare avanti, un cammino da compiere, una croce da portare e da cui essere portato. Così lascia quel luogo dove la luce di Dio ha sfolgorato in lui e torna in basso, assieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. Torna nel mondo immerso nell'oscurità e subito gli si fa incontro proprio l'oscurità della miseria umana. Il contrasto è impressionante, dalla pace luminosa di Dio all'aggrovigliarsi tormentoso delle forze del male e dell'incapacità umana a fronteggiarle. Gli altri discepoli che erano rimasti ad aspettare il maestro e i tre colleghi erano da poco tornati dalla loro prima missione. Avevano predicato e scacciato i demoni e guarito i malati. E così erano convinti di poter dominare ormai ogni realtà maligna, ogni spirito impuro. E allora, quando era arrivato un povero padre di un povero ragazzo posseduto, noi oggi diremmo epilettico, che cercava Gesù per guarire suo figlio, gli avevano detto con tranquilla sicurezza, il maestro non c'è ma non preoccuparti, ci siamo noi, i suoi discepoli. E da lui abbiamo imparato a sconfiggere ogni demonio e ogni malattia. Quel padre allora aveva messo il figlio nelle loro mani. Ed eccoli perciò tutti attorno al ragazzo, ecco i loro comandi allo spirito impuro, che aveva conficcato i suoi artigli su di lui con una forza tale da non avere più bisogno nemmeno di parlare per manifestare la sua presenza. E il suo dominio su quel povero corpo che aveva già straziato e continuava a straziare in mille modi. Spirito immondo, noi te lo comandiamo, esci da costui. È così che devono aver detto i discepoli. Prima con un tono sicuro, poi più alto, alla fine con urla ripetute, perché lo spirito immondo non aveva alcuna voglia di uscire da quel corpo e non usciva. Insomma, la situazione si era fatta imbarazzante. Tutta quella agitazione di uomini che urlavano e di un ragazzo che si dibatteva aveva finito con l'attirare gente. Era arrivata tutta una folla e anche alcuni scribi, teologi del tempo, che avevano cominciato a discutere animatamente con quegli sprovveduti e presuntuosi esorcisti. Ma ecco nel cuore di quell'imbarazzo e di quella sofferenza arriva Gesù. E subito la folla, ogni singola persona presente, sente un brivido correre lungo la schiena. Quando la nostra Bibbia dice che al vedere Gesù la gente fu sorpresa, in realtà non rende pienamente il verbo originale, che è molto più forte, indica appunto un brivido, un tremito fatto insieme di paura e di fascino. Quella paura e quel fascino che provi quando Dio ti si rivela. Tutti i presenti, infatti, senza sapere come né perché, avvertono che colui che si avvicina ha in sé qualcosa che lo rende diverso da ogni altro. Sentono che l'unico che davvero può prendere su di sé il peso della sofferenza di quel fanciullo accasciato dal male e può guarirlo è lui, è Gesù. E può farlo perché è soranamente estraneo alla miseria e alla presunzione umana. E chi più di tutti avverte questo è colui che più di tutti è toccato da quella sofferenza. Il padre del ragazzo posseduto, che subito risponde alla domanda di Gesù su cosa stia accadendo, entra con lui in un dialogo che è tra i più drammatici e belli di tutto il Vangelo. Perché chi parla qui da una parte è il Signore, e dall'altra c'è un essere umano reso profondo nei sentimenti e nei pensieri dal suo stesso dolore. E al termine e dal vertice di quel colloquio le tre scrammazioni che si intrecciano tra di loro, aprendo davanti a noi tutto l'abisso della sofferenza e della speranza umana e tutta la grandezza del dono di Dio per noi che è Gesù. Da quanto tempo gli avviene questo? chiede Gesù al padre. E il padre, che ha davanti agli occhi il suo ragazzo che si rotola e sbava nella polvere, di fronte a quella domanda ripercore in un attimo il lungo itinerario di dolore che l'ha portato fin lì. Un bambino per un padre e una madre è una fonte di gioia. Per quel padre non è stato così. Il male si è avvintato su suo figlio e se ne impadronito da quando era bambino. E allora per lui guardare la sua creatura è sempre stato un gemito, uno strazio continuo. E adesso che lo vede dimenarsi un'altra volta sotto le frustate del male, ora che anche il ricordo del passato ha aggiunto il suo carico d'orrore al carico d'orrore del presente, non può non gridare scoraggiato e avvilito per quello che è stato prima e che può essere ancora l'ennesimo fallimento dell'ennesimo tentativo di liberare il figlio. Noi siamo qui a parlare e mio figlio è straziato. Se tu puoi fare qualcosa, perché a questo punto, visto i discepoli che hai, temo che nemmeno tu possa fare qualcosa, soccorrici. Abbi pietà di noi. Si abbi pietà della sua sofferenza che anche la mia. E Gesù ha pietà di quel povero padre e di suo figlio. E chiama il padre alla fede. Fede in Dio e fede in lui. Che cos'è questo se puoi? Gli dice. Tutto è possibile a chi crede. E il padre scosso da quelle parole insieme di rimpovero e d'amore intuisce l'offerta di salvezza. La corda che Gesù gli sta apporgendo per tirare via dall'abisso lui e suo figlio. E subito, con lo slancio del cuore, grida «Credo! Sì, io credo!». Ma poi lo slancio cessa. La ragione torna a dominare. Non può non riandare ai mille dubbi, alle mille crisi che la troppo lunga consuetudine col dolore ha insinuato in lui. E così sente il bisogno di aggiungere qualcosa a quel suo grido. «Credo!». E aggiunge un'invocazione straordinaria e toccante, perché plasmata dalla sofferenza. «Io credo, ma tu soccorri alla mia incredulità!». Davvero il lungo ininterrotto dolore ha reso grande il cuore di quell'uomo, tanto grande che lui c'è lo spazio insieme per la fede e per l'incredulità. Grida «Credo!» e subito dopo deve come smentirti. «Soccorri alla mia incredulità!». Sa che solo ricorrendo al Signore la sua sofferenza potrà essere vinta, e al tempo stesso ha paura di compiere quel salto che gli sembra impossibile. E così fa come un passo in avanti e poi si ferma, come paralizzato anche lui come il figlio, anche lui vincolato dai legami del male. Ecco allora la sua invocazione, insieme disperata e piena di speranza. Ecco il suo rivolgersi a Gesù. Ed eccolo invocare da lui, dalla sua fede, dalla fede di Gesù, un aiuto per la sua incredulità. E Gesù a sua volta vede in quel padre la lotta che lo strazia, il conflitto tremendo tra voler credere e non poterlo fare. E forse pensa che ci sarà anche per lui un momento molto simile, che anche lui soffrirà lo stesso strazio. Pensa alla sua morte, ormai non più lontana, e pensa all'urlo col quale dalla sfogo, dalla croce, alla speranza e alla disperazione, che anche lui lotteranno fra di loro per prendere possesso del suo cuore. Sì, l'urlo di questo padre, credo ma soccorri la mia incredulità, è proprio tanto simile al Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che Gesù leverà dal Calvario. E allora ecco l'intervento di Gesù, pieno di compassione e di potenza. Spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da costrui e non entrare mai più in lui. E lo spirito in mondo stavolta deve cedere, deve mollare quel corpo che pensava suo per sempre. Così con un ultimo assalto disperato e rabbioso strazia ancora una volta quelle membra ormai non più sue e se ne va. E il ragazzo a quell'ultimo assalto crolla a terra e resta come morto, ma Gesù, il Signore della vita, lo afferra per la mano e lo solleva. È quasi una vera e propria risurrezione. Il ragazzo si drizza e resta in piedi, risuscitato ad una vita nuova. Finalmente è tornato quel che è, un essere umano e con lui suo padre. Di quel padre, di quell'uomo così nobilitato e reso grande dal suo lungo dolore, non si parla più. Ma forse se ne parla ancora alla fine del nostro testo di oggi, laddove Gesù risponde ai discepoli che gli chiedono in privato come mai non sono stati capaci di scacciare quello spirito impuro e dice loro che solo la preghiera poteva operare quella liberazione. Molti affermano che qui Gesù sta parlando della sua preghiera personale. Penso però che si possa anche dire che invece sta parlando dell'invocazione di quel povero padre. Credo, ma tu soccorri alla mia incredulità. È stato quel suo grido, tutto teso ad esprimere e insieme a superare la lotta tra la fede e l'incredulità che gli straziava il cuore. Quella è stata la preghiera che ha cacciato via da suo figlio lo spirito maligno. Davvero un testo importante questo di Marco 9,14-29 che ci insegna che cos'è la preghiera, ma soprattutto che ci aiuta a riflettere su quella realtà ancora per molti aspetti misteriosi che è la fede. Perché cos'è la fede, sorelle e fratelli? Non è, come pure spesso pensiamo, e come sempre vorremmo, il sereno possesso di tutta una serie di sicurezze. Pensando al padre del nostro racconto abbiamo parlato di lotta straziante tra fede e incredulità, tra voler credere e non riuscire a farlo. Forse non è così, forse fede e incredulità non si possono opporre fra di loro, come abbiamo fatto, perché sono due facce della stessa realtà. Forse quella volta che ha detto che il Regno dei Cieli è oggetto di violenza, Gesù si riferiva proprio alla lotta che chi crede deve sempre e sempre di nuovo sostenere contro la propria incredulità, contro i dubbi che riaffiorano ogni volta, contro i tanti angosciosi se e perché da dover così spesso sormontare, sapendo che possiamo sempre fare ricorso a Gesù. Perché Gesù continua a venire sempre in nostro soccorso, è venuto anche oggi, è qui con noi, e la sua fede garantisce per noi, la sua forza soccorre la nostra debolezza, la sua coscienza dà consolazione e luce alla nostra coscienza, fa della nostra fede scossa dai dubbi come una foglia al vento una vera fede, della nostra invocazione una vera preghiera, la preghiera cristiana. Signore noi crediamo, ma tu vieni in soccorso alla nostra incredulità. Amen. prof. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' salito al cielo per portarvi la nostra umanità e ci ricorda anche come però non ci lascia, non ci abbandona. Noi viviamo nell'attesa del suo ritorno, ma sappiamo che in questa attesa non siamo soli. La domenica prossima sarà la Pentecoste e noi sappiamo che Gesù è presente non più davanti a noi, ma in maniera ancora più piena dentro di noi, in virtù dell'azione del suo spirito, del tuo spirito, Padre, che lo rende attivo e vivo dentro di noi e che ci dà quella forza che non abbiamo, quella fede che cerchiamo, quella speranza che facciamo fatica a alimentare, ma che in Lui possiamo ritrovare luminosa e serena. E allora ci affidiamo ancora una volta a Te, come Tuoi figli e figli, come se già fossimo con Lui, con Gesù, alla Tua destra. Sapendo che però, finché siamo qua giù, dobbiamo chiederti come faremo adesso, venga il tuo regno, ma lo facciamo con speranza, con la certezza che il tuo regno verrà e ne faremo parte, per la Tua pura grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché Tu hai il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Riceviamo la benedizione del Signore. Al Re dei secoli, immortale, invisibile, Dio solo sapiente, E che queste siano la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Ruggero Marchetti.